Una buona giornata dalla redazione di ETV, benvenuti a una nuova edizione del nostro TG che come sempre potete seguire ovviamente in televisione sul canale 12 ma ci trovate in contemporanea anche in streaming sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra app. E naturalmente sul nostro sito che vi ricordo www.etvmarche.it e iniziamo purtroppo proprio dal nostro sito per una notizia di cronaca che ci porta a Iesi, una terribile tragedia avvenuta sull'asfalto, è morto un ciclista, un uomo di 63 anni investito da un'auto. Dicevamo il terribile fatto è successo ieri sera all'incrocio tra via Cartiere Vecchie e via Padre Pellegrini a Iesi, un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al ciclista. Si tratta di Piero Guerriero, una persona molto nota in città, un imprenditore, aveva anche un'agenzia di comunicazione. Purtroppo per lui la caduta a terra è stata fatale, ha sbattuto violentemente il capo e i sanitari accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Ed ora voltiamo pagina e parliamo di Covid e di vaccini perché sono di nuovo in aumento i contagi e allora la Regione Marche corre ai ripari come con gli Open Day in varie città. Oggi la prima giornata già a Dancone e allora andiamo a vedere come è andata questa mattina. Sentiamo. Che dose ha fatto? L'ultima è la quinta, la quinta dose. Questa è la quarta dose. La quinta credo, l'ultima. L'abbiamo fatta tutta. La quinta dose anti-Covid. Aspettava da tanto? No, non tanto tempo, no, un mese circa. Contenta dell'Open Day? Moltissimo, è veramente un servizio per il cittadino, finalmente. Code già dalle 7.45 di mattina all'Open Day vaccinale di Ancona, disponibili presso la sede della Ex-Cras 400 dosi. In attesa sono soprattutto anziani che devono effettuare la quinta somministrazione di vaccino anti-Covid, qualcuno anche solo la quarta. C'è chi aveva aspettato perché è un po' indeciso, chi semplicemente non aveva trovato posto nei turni ordinari, o chi ha deciso di farlo per tutelare amici e familiari fragili, oppure in vista di un viaggio. Aspettavo, non ero molto convinta di farla, ecco. E cosa l'ha convinta? Mi ha convinto un po', forse un po' la paura. Quanti anni ha signora? 92, 92. Ho approfittato dell'Open Day per non aspettare ulteriormente. Lo fa per se stessa, per difendere anche gli altri? Entrambe le cose, sì. Prima per me stesso, ma poi anche per gli altri, considerando che c'è anche un bambino piccolo. Ero preoccupata perché si sta diffondendo ulteriormente questo Covid, per cui sì. Ero un po' incerto, poi abbiamo deciso di farlo sia io che mia moglie, perché stiamo andando all'estero per le vacanze, perciò volevamo essere un po' più tutelati. Come è andata? Bene, grazie. Non ci sono stati nessun tipo di problema, nessun dolore, una piccola attesa, supportabile benissimo. Non ho sentito nulla. Adesso è tranquilla. Sì, ormai è fatta. E adesso voltiamo di nuovo pagina, parliamo di cronaca giudiziaria e parliamo purtroppo della strage della Lanterna Azzurra. Trovate la notizia anche sul nostro sito. Ieri una nuova udienza del processo BIS per la strage di Corinaldo e il PM. ha detto troppe irregolarità, ha parlato di pratica all'italiana. Ricordiamo che nella Lanterna Azzurra morirono nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 5 minorenni e una madre di 39 anni nella calca. Ebbene, secondo il PM quella discoteca non doveva neppure esistere. Invece ha avuto autorizzazioni rilasciate nel giro di 30 anni. Una tipica pratica all'italiana, così ha detto il PM ieri in udienza, fatta con l'occhiolino da una parte e il colpo di gomito dall'altra, con l'obiettivo di fare soldi e avere le carte a posto. Queste le parole di Paolo Gubinelli, iniziando la discussione al Tribunale di Ancona. Il processo e alle battute finali è iniziata infatti la requisitoria della pubblica accusa che continuerà anche lunedì prossimo, quando saranno formulate le richieste di condanna per i nove imputati accusati a vaglio titolo di cooperazione in omicidio colposo plurimo, lesioni, disastro colposo, falso ideologico e apertura abusiva di un locale. Tra questi c'è anche l'ex sindaco di Corinaldo, Matteo Principi, dunque lunedì poi si proseguirà e ovviamente ve ne daremo conto nei nostri notiziali. Ed ora invece voltiamo pagina e torniamo a parlare di sanità per una bella notizia, una nuova casa per i genitori dei piccoli in cura all'ospedale Salesi. Ci racconta tutto Linda Cittadini. Negli anni qui si sono alternate diverse famiglie, distanti tanti chilometri da casa e con un macigno sul cuore, un bimbo malato all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Ecco, fresca di ristrutturazione, la casa d'accoglienza donata dall'ex patronessa Anna Galvani, a disposizione dei genitori che devono seguire il figlio o la figlia anche per lunghi periodi per terapie impegnative come quelle oncoematologiche o cardiache. Dopo la ristrutturazione c'è anche una stanza in più, garantendo l'ospitalità fino a sette persone contemporaneamente. Sono passate diverse famiglie da qui con anche bambini con patologie molto importanti. Qualcuno purtroppo nel corso di questi anni l'abbiamo anche perso. E siamo rimasti comunque in contatto con le famiglie perché si sono trovate così calorosamente bene in questa casa e nella nostra famiglia delle patronesse che ancora adesso riceviamo i loro auguri e qualche volta anche qualche telefonata. L'abbiamo rifatta praticamente tutto, all'infuori dei pavimenti quasi tutto è stato rifatto. Rinnovati gli arredi. Gli arredi, tutto quanto. Quindi adesso aspettiamo i nuovi arrivi. È una casa che ha il bello che è vicinissima all'ospedale e quindi è molto comoda. Quando queste pazienti, queste famiglie si rivolgono al Salesi anche per cure che a volte sono molto impegnative e che richiedono dei periodi di ricovero prolungati è veramente un grande supporto. Arrivano in orari un po' particolari. Mi è capitato anche il 15 di agosto sotto il sole all'ospedale di Torrette perché arrivava un bambino da Roma. È capitato anche in aeroporto. Siamo riusciti anche a curare bambini provenienti dall'estero. Bambini malati di cuore che sono poi stati operati qui da noi all'ospedale di Torrette. E segnala ancora come il cuore di tutti i cittadini sono rivolti a dare aiuto al prossimo che è in difficoltà. E dalla nuova casa dunque dedicata alle famiglie che hanno i loro piccoli al Salesi alla nuova caserma dei Vigili del Fuoco che vedrà la luce ad Apiro. E qui siamo nelle terre del post-sisma e sono anche i fondi stanziati appunto per il post-terremoto. Sarà avamposto strategico per il territorio. Questa nuova caserma ci racconta tutto Roberto Properzi. Presentazione ufficiale nella sede della Prefettura di Macerata per il progetto della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Apiro. Isabella Fusiello ha accolto nel Palazzo del Governo il commissario per la ricostruzione, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e il sindaco di Apiro accompagnato da vicesindaco e progettista. La nuova caserma soggerà presso l'ex campo sportivo in un'area strategica ed ospiterà il distaccamento volontari dei Vigili del Fuoco e il COC comunale. Una struttura a servizio di un territorio più ampio che coinvolge anche la provincia di Ancona. Ci sono almeno 8-9 comuni interessati da questa nuova struttura che andrà a servire comuni in una zona riccamente densa di zone boschive, quindi estremamente pericolosa dal punto di vista degli incendi, soprattutto estivi, ma anche e soprattutto per quello che riguarda le urgenze di ogni giorno, quindi le difficoltà che ogni giorno si presentano. Noi sappiamo che ora è necessario che l'intervento venga garantito in 20 minuti. Proprio gli interventi nel 2023 sono stati 240 per un distaccamento che ricordiamo ha 43 volontari iscritti, di cui 26 attivi. Il comandante provinciale Caprarelli ha voluto partecipare alla progettazione con lo studio Canella. Noi che conosciamo bene quali sono le funzioni e forniamo il giusto supporto ai progettisti per avere un progetto, come si dice, su misura, come un vestito calzato addosso. Ci stiamo riuscendo bene perché i progettisti sin da subito si sono dimostrati molto disponibili ad accettare tutte le nostre proposte, le nostre idee. E poi, come dicevo io, venendo da quel settore ho una certa esperienza alle spalle da poter trasferire. Il finanziamento di 3 milioni di euro è stato deliberato dall'ordinanza 137 dell'Ufficio Ricostruzione con fondi della Camera dei Deputati. I tempi, l'inizio dei lavori dovrebbe essere per l'estate del 2024, poi, per vedere la nuova struttura, occorreranno circa due anni. E questo era il nostro ultimo servizio. Noi, come sempre, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona continuazione in compagnia dei nostri programmi. Noi, come sempre, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ringraziamo per l'attenzione. A presto!